La sanità in Calabria ha tanti nodi da sciogliere ancora su questo tema ed è polemica in questi giorni. Sapevamo che sicuramente non era un argomento facile sin da quando questa maggioranza si è insediata. Certo bisogna considerare quello che è accaduto nel passato e quando io parlo del passato non mi riferisco solo al recente passato, mi riferisco al passato storico della Regione Calabria. Sapevamo di avere a che fare con una situazione sicuramente non semplice, però quello che abbiamo iniziato a fare a mio parere va nel solco non solo della correttezza comportamentale e della trasparenza ma anche e soprattutto finalizzando il tutto al soddisfacimento delle esigenze della collettività in un settore difficile come quello della sanità. Certo c'è tantissimo ancora da fare, naturalmente noi non pensiamo di aver realizzato l'optimum rispetto anche alla situazione di partenza. Abbiamo pensato e siamo assolutamente consapevoli che abbiamo realizzato cose importanti. Certo c'è ancora molto da realizzare, io però sono convinto che il bilancio si farà a fine consigliatura. Sarà quella l'occasione per verificare il punto di partenza e il punto di arrivo, che non potrà anche quello essere considerato un punto di arrivo ma un punto di ripartenza. In quel caso porteremo il conto alla collettività e la collettività darà il suo giudizio, così come è giusto che sia naturalmente in una rappresentazione democratica della vita del Paese.